Il Movimento 5 Stelle approva la deroga al teto dei due mandati ai consiglieri comunali e l'alleanza per i partiti tradizionali per le amministrative. L'80% dei votanti ha dato il proprio consenso alla modifica del mandato zero. Soddisfatta per l'esito della consultazione Virginia Raggi che su Facebook scrive «Mi ricandido, ora avanti a testa alta, grazie a tutti per il sostegno». Così la prima cittadina che poi sulla campagna elettorale e un eventuale secondo mandato al Campidoglio scrive «è un compito complesso, sappiamo che richiede sacrificio». Arriva la benedizione via Facebook da Luigi Di Maio, un grande in bocca al lupo a Virginia Raggi, laude per l'esito il Partito Democratico. Siamo un'alleanza tra forze diverse che rimangono diverse, ma per governare bisogna essere alleati.